... Sei già stato in chiesa? Questa mattina? Allora hai già visto l'affresco? Sì, perché? Avrei preferito l'avessi visto con me Non devi parlarne assolutamente con nessuno Credo di avere scoperto la storia più allucinante che si possa immaginare Ecco perché ho fatto in modo che chiamassero te Se vuoi cominciare a capirci qualcosa devo portarti in un posto C'è una casa dalle finestre che ritono Le sorelle erano delle gran puttane Credo di avere scoperto tutto, qualcosa di orribile Nella tua stanza, presto Ma cosa credi che vado in chiesa e vedo un quadro? Mi spavento soltanto perché vedo un quadro in chiesa Oggi ha ritratto quella sgualderina mentre crepava Ancora